Esiste un modo per ridurre il nostro impatto sulle specie marine? In questo video vedremo tre strategie per scegliere il pesce mettendo la sostenibilità ambientale al primo posto. Non dimentichiamo infatti che oltre il 90% degli stock ittici è sfruttato al suo massimo biologico. Primo parametro, acquistare il pesce povero. Tutte quelle specie ittiche che nessuno vuole. Pesce serra, pagello, chiata, queste sono solo alcune delle specie che nessuno vuole consumare. Attenzione a non mangiare carne di squalo, ne parleremo in un video dedicato. Seconda strategia per scegliere il pesce in maniera sostenibile è quello di guardare alla stagionalità del pesce. Il tuo commerciante di fiducia saprà consigliarti. Terza strategia, non comprare mai pesce proveniente dall'estero. I pesci esteri infatti provengono dalla pesca industriale che ha un alto impatto sull'ambiente. Se ti piace questo genere di video iscriviti al canale. Io sono Alessandro e questo è Keep the Planet.